Mestre, controlli a tappeto dei carabinieri contro i furti in negozi e centri commerciali all'interno del supermercato del centro Le Bar che veniva bloccata dopo aver compiuto un furto una coppia di minorenni albanesi, stessa sorte per una casalinga trevigiana nel centro commerciale Oshan. Controlli analoghi anche a Noalex si sono risolti con una doppia denuncia a piede libero e a Marcon dove sono state fermate due giovanissime che si erano rifornite di prodotti di cosmesi per circa 150 euro, oltre ad un pregiudicato rumeno senza fissa dimora intento ad uscire da un supermercato con alcune grandi confezioni di caffè.